Il 12 dicembre del 2016, presso l'auditorium del Forum Roma Sport Center, si è svolto un importante convegno organizzato da ANIF, l'Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness Euro Wellness. Questo convegno è servito per informare il pubblico sui nuovi sviluppi della proposta di legge per la gestione dilettantistica degli impianti sportivi, pubblicata il 28 giugno del 2016 proprio dall'onorevole Daniela Sbrollini. Sono intervenuti Giampaolo Duregon, presidente ANIF Euro Wellness, Nero Alessandri, presidente Wellness Foundation, Stefano Dottavio, docente presso l'Università di Tor Vergata, Rita Visini, assessore alle politiche sociali, sport e sicurezza della Regione Lazio, E spedito la terza, responsabile Ateneo Foritalico, Stefano Gobbi, direttore relazioni esterne CSI e l'onorevole Daniela Sbrollini, vicepresidente della dodicesima commissione alla Camera. Si ringrazia la presenza di un numeroso pubblico sempre più sensibile ai progetti ANIF. ANIF augura buone feste a tutti coloro che sostengono le nostre iniziative.